Mi trovo nel pieno centro di Taranto, nel borgo Umbertino, precisamente in via Nitti, vedete quasi ad angolo con Corso Umberto, quindi nel centro del centro, nel cuore della città di Taranto. Guardate, io oramai mi sono fatto un'esperienza perché di strade, conosco le strade di Taranto meglio delle mie tasche, tutto il degrado, le varie situazioni di criticità, ma è vergognoso che il borgo, quello che dovrebbe essere il biglietto da visita della città, presenti delle situazioni paradossali, un manto stradale qui in via Nitti che neanche sulla striscia di Gaza accadono certe cose. Guardate qui, sembra che ci siano stati bombardamenti. Qui poi sprofondamenti, proprio vedete il manto stradale scende di livello, sprofonda, questo dovuto al fatto che si procede sempre con rappezzi su rappezzi, toppe su toppe, le ditte vengono, scavano, sfasciano, buttano un po' di asfalto, poi vanno via, vedete la macchina sta transitando e proprio si vede che sprofonda, ma oltre alle macchine i rischi proprio per i pedoni, i rischi per i pedoni, perché io considero una qualsiasi persona, io grazie a Dio sono normodotato, sto bene e non ho problemi, ma pensate ad un anziano, a un disabile, come deve attraversare qui, guardate un po', guardate, qui cosa facciamo? Giochiamo alle cinque pietre? Poi cammina, poi risale, poi di nuovo rischia di cadere, qui dovuto a questo avvallamento, ma stiamo scherzando. La cosa grave, sapete qual è, caro Assessore Ciracci, Assessore ai lavori pubblici, che via Nitti, via Pupino, via Pitagora non sono contemplate neanche nel piano triennale delle opere pubbliche, cioè io dico, benedetti Dio, c'hai via Nitti, come via Pupino, come tutte le traverse di via Pitagora, via Pitagora è ridotta in una condizione pietosa, le traverse idem, viva Dio, non fatelo domani mattina, ma mettetelo nel piano triennale delle opere pubbliche, neanche quello, cioè caro Ciracci, tu non sai neanche programmare, tu e Melucci non sapete neanche programmare, eppure Ciracci tu abiti a 100 metri da qui, possibile che ti sfugga questa situazione, ma vedete, proseguendo, questo è proprio un tratto disastrato, guardate qui, altre buche, altri avvallamenti, è incredibile, qui ecco, guardate qui, si tocca, si percepisce, non so più cosa dire, incompetenza allo Stato puro, un'amministrazione di incompetenti, questa è la realtà di Tarno, incompetenti, dilettanti allo sbaraglio, che sono solo in grado di produrre danni a Taranto e ai cittadini di Taranto. Il cittadino cade, si fa male, chiede il risarcimento del danno all'amministrazione comunale, il comune viene condannato e quindi il comune deve pagare, e quindi debiti fuori bilancio, debiti fuori bilancio e debiti fuori bilancio. Ne so qualcosa perché in consiglio ne vengono proposti a IUSA di queste situazioni. Mi dice un cittadino, via Monfalcone 19? No, 13, ha detto che viene l'asfalto quello che c'è. Quando l'hanno fatto? No, da 40 anni che non si fa. Benissimo. 13 ha detto? 13. Grazie, lo faremo, grazie. Ecco, vedete, il bello della diretta, un altro caso, via Monfalcone 13, tra un po' ci andremo. Scusatevi amici, io cerco di andare ovunque, ovviamente non potrò essere ovunque perché dovrei avere come Sant'Antonio o Padre Pio il dono dell'ubiquità, però faccio di tutto, sempre dalla vostra parte. Grazie.